Siamo a Colletto Zotto con il Presidente del Consiglio del Grande, con altri capi gruppo che siedono in Consiglio Comunale. Presidente, come mai questo sopralluogo? Ho ritenuto doveroso con i capi gruppi fare un sopralluogo per renderci conto della situazione attuale, considerato anche le ultime vicende. Pertanto, siccome sono pratiche che poi dovremo gestire sia come conferenza che in Consiglio Comunale, mi sembrava giusto venire nel posto e renderci conto della situazione attuale. Ecco, in Consiglio Comunale porterete questa pratica o perlomeno parlerete di questa situazione prossimamente? Sicuramente, secondo me, penso che sia opportuno un confronto, come avete visto oggi sono rappresentate sia la maggioranza che l'opposizione, questo è un argomento che va a toccare i nostri cittadini e penso che sia doveroso per gli amministratori venire a interessarsi e soprattutto capire quali sono le problematiche e cercare di dare una soluzione.